Ciao sono Romina, in questo video parlerò di aghi, ne ho tanti, tantissimi, e fino alla scorsa settimana li mettevo in piccole scatole, però non era la sistemazione più adatta. Quindi ho creato questo contenitore in tessuto, dove ci sono tutti gli aghi. Ora vi mostro come l'ho creato. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti